Grazie raga per tutte le sub che vi state facendo, volevo ricordarvi che il canale si supporta anche in questa maniera e voi siete bravissimi a farlo perché ci aiutate ogni mese a poter continuare a fare la roba da indipendenti Esatto, indipendenti non prendiamo ordini da nessuno, mentre io pensavo di essere del colore giusto, Fada che non è d'accordo con me sta provvedendo eugeneticamente a correggermi Ma intanto vi spoiler un attimo stasera cosa succederà, prima puntata ufficiale del Fallitones, la puntata dell'altra volta era solo per reintrodurre la nuova stagione Ci sarà un nuovo sistema, tutta una serie di nuovi sistemi di voto, di chat, di cose, quindi vedere per credere stasera ci divertiremo insieme Stamattina invece parleremo di una roba che ci fa totalmente schifo, ossia quello che è successo ad Anna Pepe, di una ragazza che va a esibirsi, che va a suonare E' gente che non è neanche la prima volta che succede in Italia, mi ricordo anche i fan di Jamie Tights, mentre aspettavano Jamie Tights, totte di anni fa Sale una ragazza a suonare, escele, 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 allora questo è l'argomento della roba Allora è una cosa che fa schifo, per quanto ci piacciono le sisse, non è il modo di comportarsi Cioè siete tutti a rompere il cazzo al faina, quando dice, beh, gli cuoio di là e poi fate le stesse cose E allora secondo voi va bene questa cosa? Io più che dare la colpa ai ragazzi che ci seguono, comunque a questa nuova generazione di persone Fortunatamente noi abbiamo della gente che ci segue che è anche abbastanza adulta, quindi non penso nemmeno siano loro Però è figlia di una brutta cosa Ieri abbiamo pubblicato la reaction e leggevo sotto, perché noi abbiamo fatto, grazie ragazzi per tutte le sub Noi all'inizio abbiamo fatto quell'intro dove dicevamo che purtroppo il rap in Italia è ancora fallocentrico Perché nonostante tutto addirittura le major e proprio chi è all'interno del rap vuole tenerlo fallocentrico Questo perché, non lo so, ti giuro, me lo sono chiesto, non lo so Però quando vediamo e facciamo un paio di conti su chi sono le rapper in questo momento nel mainstream non esistono Perché Beba è stata fatta fuori, Madame non è rap L'unica che si può definire No, ma non è, ma è tutto underground Ce ne sono 3-4 brave forti che sono underground Ma mainstream, rapper forti, c'è gente che non fa rap C'è Rochelle, c'è... Ma Rochelle è anche lì mainstream perché te la presentano in un panorama Un panorama mainstream ma in realtà Rochelle di numeri non ne fa un cazzo Mi perdonassi Rochelle perché non ce l'ho assolutamente con lei Sembra la bambolina messa lì per dire noi abbiamo la rapper donna Ma fondamentalmente poi non le fanno fare effettivamente un cazzo Non la vedo sponsorizzata Cioè ma Rassatei che non rappa e non rappa Infatti sto dicendo che di rap c'è poco nel femminile C'è Leslie che però è underground perché comunque ha un certo tipo di rap Diciamo più purista rispetto a quello che era prima Ci sicura Leslie non li vai a uscire Escile perché evidentemente non è così Chi esce gli schiafi probabilmente Leslie Madonna se fa bene Non vedo l'ora di averla poco con noi che ci divertiamo Sì 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 anche secondo me Cioè a me sta roba fa stifo Chadia ormai fa la tv e va bene così Sono contento per lei almeno non deve più fare le rapine C'è Grealmos però Grealmos sta nell'underground per l'ora E poi non è definita rap E poi viene pesa per il culo perché? Perché è una che si fa scrivere i testi Pensa a te E una che si fa scrivere i testi e non è vero E una che si fa fare le prodotti Sì guarda l'unica roba che posso dirti è che magari molte volte Crede troppo nell'immaginario Ma poi non ci crede nemmeno lei Dice io come Anna Dice io uso le tag Non me ne frega un cazzo Ma a me piace quella roba lì come sonorità Per fare party e fa un prodotto totalmente party C'è Big Mama che ha fatto il primo maggio Sì ma quello Però sembra che l'hanno messa lì Solo perché è l'alternativa alla classica ragazza No perdonatemi la roba Io al primo maggio ho fatto la reaction All'esibizione di Big Mama Nessuna cantava E cantavano tutti le canzoncine vuote Fatti apposta coi cliché di Ariete E io mi sono incazzato e ho chiuso la live No perché Big Mama la canzone che ha portato al primo maggio Mi è piaciuta veramente molto come testi Come interpretazione eccetera E sembra che ti devono mettere lì Big Mama Solo perché è sovrappeso Per far vedere che siamo inclusivi Inclusivi della minchia Big Mama è molto forte E a me mi ha fatto proprio girare il cazzo Però io voglio dirti che la simbologia in questo momento è importante Quello che non è importante è il calcare la mano sulla simbologia Quello sì Quello è veramente fastidioso Scusami Infatti ho detto sembra Io non so se è così Io sicuramente Big Mama si è meritatissima A livello musicale e artistico di fare il primo maggio Infatti a me è piaciuta molto l'esibizione È piaciuto il look È piaciuto tutto Però perché C'è questa roba qua Io posso dire sinceramente Che questa roba di Escile Penso sia frutto di una brutta Di una brutta fanbase Allora quando Enzo Dong ha fatto la battuta È stato Enzo Dong che ha fatto la battuta a Anna Ed era una cosa tra di loro Il fatto che poi voi ripetete una roba La fate diventare meme, slogan eccetera Io ti invito ancora a non dire voi Perché non penso sia la nostra community No 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 Io penso che bisogna analizzare Analizzare proprio nello specifico Quello che succede Però effettivamente Effettivamente anche noi abbiamo avuto problemi Nonostante Non sei cattivo maestro ma lo diventi Cioè Enzo Dong Non ha colpe Però Però non possiamo neanche Prendere Però hai capito che se una persona Fa una battuta a un'altra Tu puoi ridere della battuta Puoi dire Questo umorismo mi piace Mi ha fatto ridere È bella Ma tu non puoi prendere quella battuta E farla diventare Uno strumento di crocifissione Per soprattutto una ragazza Soprattutto quando si parla del corpo E soprattutto quando si parla del sesso Perché? Perché è vero È giusto E non è un discorso da buonista È un discorso da una persona intelligente Ed empatica Ok? Se una Io posso Avercela a morte con una persona Che questa persona può essere anche femmina E posso disprezzarla E posso anche Boicottarla Odiarla Ok? Però ci deve essere un motivo Quella persona deve avermi fatto qualcosa Ma rompere il cazzo Anna Solo perché È il meme di turno È un bullismo gratuito Puoi dire Mi fa schifo la sua musica Puoi dire Non sei una rapper Non t'ascolto Non centri Puoi dire quello che vuoi Ma non puoi andare Dove la gente lavora A rompere il cazzo a chi lavora Soprattutto dicendo Escile Escile Perché sennò io vedo tua mamma Per strada E le dico Escile Escile Vediamo come reagisci te Io faccio spesso Con la mamma dei miei fan Sì No però È ragionissima Al cento per cento Nessuno può Dire che Quello che è successo È una cosa civile E soprattutto civile E inclusivo Come nel rap Dovrebbe essere Sai benissimo che L'abbiamo parlato ieri sera No? Con Nasce come Senza nemmeno pensare Alla differenza di genere O alla differenza di età O alla differenza di essere Hip hop nasce come un genere Inclusivo Perché di base È musica Per chi è stato emarginato Sì ma quando va A cantare Jamie Tice Non gli urlano Appelato Stempione Però Jamie Tice Perché lui è figo Però Jamie Tice ha un discorso No occhio Perché comunque C'è stato il periodo In cui andavano A rompergli il cazzo Però Jamie Tice Forte anche del fatto Che comunque lui È un artista Musica la sa fare È lì da tanti anni Ed è fisso Pure che gli urli Appelato del merda Ti tira fuori il cazzo Come fece l'amico suo E te lo sbatte in faccia E lì c'ha ragione E lì c'ha ragione Però Però Anna Che è una ragazza giovane Che Bene ok Il pubblico Il pubblico mainstream Che la segue Non sa che cazzo Ha passato Anna E non sto parlando del passato Sto parlando Del passato più prossimo Di quello che le sta succedendo Proprio dopo il successo D'Anna Quello che è successo Magari Tra contratti E mica contratti Voi vedete soltanto La parte di facciata Dove vi fa vedere La punta dell'hyper Vedete La minchiata che fa su youtube La canzoncina Vedete che gira con gli altri Però magari non sapete Che cosa c'è dietro E magari salire su quel palco Quella sera Dopo tanto tempo Che non c'erano stati Non erano stati fatti i concerti Li faceva anche piacere Salire su palco Bravo Con la voglia di fare Roba nuova Perché finalmente Non è soltanto Roba nuova è fatta bene Cazzo Non è soltanto Bando Adesso dentro C'hai tutte Quelle due o tre canzoni Che ti ho dato fuori Che sono pure carine Tutte belle poi Tutte belle dai Sinceramente Anche alla Games Week Quando è arrivata Anna Ti ricordi l'ultima Games Week Che abbiamo fatto È arrivata Anna Perché suonava rondo Suonava gente della Sevenzo Suonava questo Suonava quello E il pubblico Non ha reagito Ok? E a me ci sta Che sale un artista Che non ti piace E non applaudi Non la urli E non la propsi È legittimo Se a me sale Sul palco una band Se io vado in un concerto Dove suonano Un festival Suonano 4 o 5 band E una band O due band Non mi piacciono Non è che li applaudo Magari li applaudo Perché sì Ok? Però se mi fanno proprio schifo Non applaudo Se mi stanno sul cazzo Me ne sto zitto Magari li faccio anche i fischi Li faccio bu Però è una cosa Sul lato artistico musicale Ma questa roba qui Raga È brutta È brutta Ci sta che tu non applaudi ad Anna E pensi che lì Non ci dovrebbe stare È un tuo pensiero È legittimo Ma di lì Escile Escile Oh ma che cazzo siete Allo zoo Ma siete veramente la mer Siete porca puttana Ma manco il Faina C'ha più rispetto C'ha più rispetto il Faina Perché almeno Faina almeno ci vuole provare Ma lo fa per il personaggio È un troglodita Sì ma capito Faina è un troglodita Ma non è una molestia Ma non è una molestia Cioè sì è una molestia Io ho scambiato due parole Col Faina Lui è un personaggio Fa il personaggio Ma certo E continua a ricalcare Quello che si è costruito addosso È ovvio Che dal personaggio La persona cambia tantissimo La situazione Sì ma a me sta cosa fa schifo Ma a me sta cosa fa schifo Perché tu vai A Umiliare una persona A livello sessuale Cioè quella Non fa la stripper Non fa la pole dancer Che puoi dire anche Ah vabbè però No Fa la cantante E non è mai stata una Che è andata in giro Facendo del suo corpo Un No Non è mai stata Per dire Una fishbowl Una vertebello Che se parallelamente Alla musica Facevano anche Le modelle E allora Non è tollerabile Ma puoi dire Ma tanto tu le vendi Le foto del corpo Quindi Mi sento autorizzato a Non sei autorizzato comunque Però Ok Anna non era neanche In quella In quella cosa lì Quindi non c'è proprio Nessun motivo Non c'è neanche Il margine di errore Non ne hai Non lo potevi avere Non so se hai capito Quello che voglio dire Sbagli anche la persona Nel senso Se le vai a dire a fishbowl Bertebello Bertebello prende Ti chiude dentro un bagagliaio E ti porta a sotterrare Capace anche che te le fa vedere Al fanculo Sì E ti chiede pure i soldi Per dire no Tanto che cazzo ne frega Le puoi vedere quando vuoi Se le ho chiedi a fishbowl Ti ride in faccia Ti chiede 20 euro E poi E poi il suo ragazzo Ti lama tutto Bravo Bravo E fa bene Anna è una ragazzina Anna ha 16-17 anni Ok che puoi dire 20 anni avrà adesso Ok che puoi dirmi Sì è un personaggio pubblico Quindi devi accettarlo E allora Un personaggio pubblico Ti devo lanciare Le cornet in faccia Io sta cosa Mi fa impazzire Cioè quando mi dici È un personaggio pubblico Allora devi accettare Che ci sono delle critiche Ma le critiche Le fai sul suo lavoro La critica Gliela fai su quello Non è lo sfotto A livello sessuale Però c'è anche da dire una cosa Attenzione Se lei subisce questa roba qua Può essere anche figlia Di un'immagine Che gli è stata data Sui social network Magari non da lei Ma per cercare di Spingere ancora di più Il suo personaggio E quindi a quel punto L'ignoranza Dell'italiano medio Che va sotto il suo concerto Per romperle il cazzo Non è giustificata Ma è comprensibile Perché è stata indotta Da una vendita Però secondo... Non so se questa cosa Del fisico Del suo essere Prosperosa Diciamo così No no è stata venduta Le immagini Di lei In determinate pose È una ragazzina Poi uno si veste Come cazzo vuole Minchia Cioè capite anche Che sta facendo uno show E dallo show Anche l'occhio vuole La sua parte Ma sicuramente Non è lì a farla stripper Cazzo È lì a cantare Ha un vestito Lì a cantare Ma se io Mi sono a mio agio Con il mio corpo E a volte mi piace Farmi vedere O comunque Mettermi un vestito Che accentua E risalta Le mie forme Ok Va bene E comunque Le mie immagini Cioè il concerto di Madonna Nessuno gli diceva Fammi vedere la fessa Tanto prima o poi Sarebbe arrivato il momento Andiamo con Madonna Sì Con Madonna Esatto Che arriva Anche con la mia amica Quel momento Che arriva Parliamoci chiaro Il discorso Che siamo nel 2002 E siamo in un ambiente Dove Ancora questo voi No Non è voi No voi Non la nostra fanbase Che lo sanno Che non ci piacciono queste cose A noi ci piace criticare A livello artistico È una questione Proprio di persone Che non hanno Una conoscenza Neanche del mondo femminile Però la cosa Che mi fa ancora più male È che queste persone Facciano parte di un circuito Che dovrebbe essere Il circuito più inclusivo E come dicevamo prima E che non dovrebbe Nemmeno esserci Porsi questa cosa Cazzo Non abbiamo rap per donne E le poche che abbiamo Le stiamo massacrando Cioè Quando noi abbiamo fatto Cinque anni fa Quella cazzo di campagna Per cercare di risollevare Il rap femminile È durata Due Quanto? Un anno e mezzo Giusto il tempo Del successo di Madame È tornato tutto come prima E poi è tornato come prima? Eh raga Però non è che ci sono sempre Ogni anno Gli arcade boys Che ti tirano fuori Una nuova ragazza Che va a far parte L'underground Cioè Il problema è che qua Ci vuole rispetto Per tutto quanto Già anche soltanto Sembrava di vedere Veramente I follower Di Di gente Che non c'entra Anche di vari Opinioni Opinioni Stucoli Da Youtube Da Facebook Che va a massacrare Il lavoro Che anche Magari non gli date valore Voi perché Non capite un cazzo Di come funziona Ebbene Voi è Voi il grande pubblico Del rap italiano Io voglio Perché anche te Ti viene da dire voi Non è voi La nostra fanbase Esatto Anche voi Dei ragazzi Che ci seguono Magari non capiscono Che tipo di lavoro Ci sia dietro Un lavoro artistico Quindi una volta Ci siamo scontrati In chat Parlando di gente E diceva No ma di artistico Non c'è un cazzo Ma che ne sai Questi passano 12 ore Durante Noi stessi Passiamo 12 ore In studio Al giorno Per creare roba Puoi dirci che Il nostro lavoro Non è un prodotto artistico Eppure io Da parte mia Quando faccio una grafica Quando faccio una copertina Quando Io lo ritengo artistico Perché è una roba Che faccio In quel momento Creativo cazzo Perché Perché L'unione La fusione I colori Il perdere Il tempo E trovare la voglia Di creare questa cosa La voglia Di farla Anche stamattina Mi sono messo A fare sta roba Hai visto Mi sono perso Mi sono perso Perché mi stavo divertendo A fare le grafiche Io la ritengo artistico E magari tu dici Sei uno youtuber Non fai un cazzo nella vita Mi alzo alle 6 Per non fare un cazzo nella vita Così ho più tempo Per non fare un cazzo Perché talmente Non voglio fare un cazzo Io Che mi alzo prestissimo Per avere più tempo Per non fare un cazzo Pensa a te No È quello il discorso Sembrano Ma Anna dove si è esibita Cioè In un posto Dove c'erano anche Altre persone Che cantavano Chiediamo a Buonfumagi Se ci manda il video Vediamo se riesco a condividere Perché a questo punto Io penso Che come per altre volte C'è la grande fetta Del fanbase Dei rapper italiani Che non erano altro Che i tamarri Di 15 anni fa Stessa gente Con gli stessi riferimenti Tra virgolette Culturali E quindi Sembrano Di stare a tuari Come si dice Se Non siete in grado Di guardare Una ragazza su un palco Senza vederla Come un pezzo di carne Dal macellaio Evidentemente Siete delle scimmie Siete delle scimmie Ragazzi Non so cosa dirvi Poi Fumagini Ci mandi Il video Per favore Così lo apri Lo mando a Barlo Un video suo E di Tony Da quanto ho capito Fumagini Live Un live suo Di Tony Un live Ecco grazie Cioè Pubblico Un attimo Vediamo se riesco A condividerti Lo schermo Barlo Condividi Cioè Non lo so Magari ti sembra Di esternare Un apprezzamento Dicendo Escile Escile Cioè Non capisco Non capisco Il livello Non capisco Il livello Ok Dovresti Vederlo Nella seconda La seconda Schermata E il video Diventa virale Ok Proviamo a vederlo Vai Non parla Perché Sennò ti rientri Vai Vai Fandala Fanculo Sti coglioni Sì Si è capito Un cazzo Aspetta Poverina Fandala Fanculo Sti coglioni Poverina Mamma mia Beh Ha fatto solo bene Sì Però hai visto la faccia Puraccio Ah Scusami Aspetta 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 Sono sparito Aspetta Aspetta Arrivo io Aspetta Colpa mia Sì Eh Raga Quai La mattina È un cazzo Di Non mi sentirei Per un secondo Va bene Scusate raga Sto arrivando Gigino dice Ragazzi Livello Sesso droga E pastorizia Eh sì Però Finché sono meme Che non fanno male a nessuno Di una pagina meme Come sesso droga E pastorizia Può anche andare bene È un tipo di humor Che è contenuto In un contenitore Che è una pagina meme Quella roba lì Non deve uscire Nella vita reale Però È quello che abbiamo detto ieri O no Fada Sì sì Anche sesso droga E pastorizia I meme Sono all'interno Della loro community E conosco tanta gente Di quella community Che sa distinguere la realtà Esatto E chi non sa distinguere la realtà Viene eliminato Da quella community Cioè io so bene Che c'è questo genere Tipo di lavoro all'interno Come noi facciamo Con i nostri meme Cerchiamo di farli durare Una settimana E pisciarli Cioè Lo sai bene Che non mi piace Il meme prolungato Il problema qua È che tu sei Veramente tanta gente In un live di un artista Ed è una bambina Perché parliamoci chiaro Quella è una bambina E c'ha un visino così Che ci rimane male Che mi fa prendere Cioè ma hai visto Come sei bloccata Sì Se lì a fare il tuo live Cazzo Se lì a fare il tuo live Dopo tanto tempo Con la gente che canta La tua canzone Non come la Games Week Che sono lì Perché vogliono solo vedere Il ragazzino come loro A puzzare di cazzo Uno con l'altro Cazzo c'è gente Che canta la tua canzone E tu vai lì A fare escile Escile Ma io Ma io se ero Se ero il tuo buttano Non lo so Guarda che poi Divento violento Però sta gente qua C'è da prendere a per le orecchie E alzarle Sai quando alzi la coppa UEFA Che vinci la coppa UEFA E la alzi così Uguale Perché porca puttana Tu poi Hai tutto il diritto Te lo dico da maschio Dentro di te Di pensare Quella ragazza mi piace tanto Vorrei vederla nuda Toglimi pure quella Dentro di te Dentro di te Hai tutto il diritto Di pensare Guarda la seguo Solo perché è bella Solo perché mi piace Solo perché mi attizza Ma Capiamo che La realtà È fatta anche Da altre persone Ma io vorrei Che tantissime ragazze Ci seguissero Solo perché Le attiziamo Ma Dobbiamo giocare Sulla simpatia Barlo io e te Sì come Gianni Cala Oh minchia Lui con la simpatia Ha scopato Per tutti gli anni 80 Ma che cazzo vuoi Ho scopato anche tua madre Probabilmente sì Io non ho indagato Però Il E ritorniamo anche Al discorso principale Perché le donne Nella musica italiana Non hanno Non vogliono uscire Oh raga L'altro giorno Ho beccato una ragazzina Batterista fortissima Che si faceva le cover Di E io Ho soltanto detto Vabbè Questa avrà tantissimi numeri Cazzo aveva 600 persone La seguivano E E mi ringraziava tantissimo Che l'avevo ripubblicata Dicevo Boh Cioè è una cosa normale Continuiamo Le donne batterista Non se ne vedono in Italia Le donne chitarriste Non se ne vedono Perché? Perché hanno paura Di queste cose Perché hanno paura Che l'industria italiana Fagogita La loro bravura Per renderle Soltanto carne Ma perché Il pubblico Vuole la carne E l'industria musicale Vende la carne Con contorno di musica E dopo 20 anni di Mediaset Ormai la donna in televisione Deve essere bella Deve essere considerata Solo che è bella Da Quella di Studio Sport A quella di Quel cavolo che vuoi Hai capito? Cioè è brutta questa cosa È brutta questa cosa Che se non c'è la cultura Dell'immagine Per le donne Devi essere Fica Se no Non fai niente In Italia A proposito di donne batteriste Al primo maggio C'era Carmen Consoli Ha fatto dei pezzi di Cristo Il disco di Carmen Consoli Nuovo è bellissimo Ve lo consiglio Stoner Punk Stoner Park E sai chi schiera la batteria? Ma li direi Ah e beh sì Molte volte suonano insieme L'avevo vista Forse X-Pack Ma una cosa devastante Ai ragazzi giustamente Sono rimasti un po' così Perché le sonorità Erano veramente Stoner Ma fa figlio Vabbè lo Stoner È musica molto da donne Degli anni 90 No ma fa da E oltre Fidati E oltre E una roba Che se tu la senti impazzisci Tu parli di una mia artista preferita Tu sei parlando della mia artista preferita Ma appunto Appunto se la senti impazzisci ancora di più del solito Sì perché dal vivo sono bravissimo Io gli ho dato Io avevo un live di Carmen Consoli Con la batteria La Ray Due tre whisky Seduto al tavolo Me ne vado più E te lo godi proprio Guarda che Madonna Però perché c'è una sensibilità Da parte di un genere Umano Di un essere umano Totalmente diverso da noi Che ti colpisce E noi abbiamo bisogno di quella sensibilità Se continuiamo a sentire la puzza di cazzo ovunque Noi quella sensibilità non la prenderemo mai Non arriverà mai al nostro E quindi A un certo punto Ci sembrerà tutto uguale Se non c'è la contaminazione Siamo fottuti Il rap italiano è fottuto Perché non ha contaminazioni femminili Guarda semplicemente Grelmos che arriva E soltanto col timbro vocale Ma può farti cagare Può farti cagare lei come persona Può farti cagare Tutto quello che è il mondo della drill Però non puoi dire Che quella roba Non è diversa Quella roba non colpisce Esatto Esatto Guarda Le ragazze nel rap O le affianchi a uno Deve essere sempre di fianco al maschio Allora fa il featuring Allora sei forte Pristis raga Madonna L'avete seguita solo quando Faceva le canzoni Tra virgolette Un po' più stupide Perché era il periodo dove tutti Facevano le canzoni un po' più stupide Sulla cannetta Comunque le canzoni più stupide Le canzoni più stupide Sono meglio del vostro rapper preferito Esatto Adesso vi assicuro Poi ha fatto un disco super femminile E non femminista Super femminile E non l'avete più cagata L'avete cagata perché? Perché stava dentro Era sempre con Jamie Tights e Madman Allora va bene anche lei Però ragabo Ma anche le donne stesse Ma anche Anche le donne stesse Che ascoltano rap Non si supportano la vicenda Questa la devo dire Allora Allora aspetta Ah le donne che ascoltano Non quelle che lo fanno Quelle che lo fanno Le ascoltatrici Si ascoltano più volentieri Gue Pechegno Che vanno a farsi una ricerca Di rapper femminili E quando diventa Una rapper da seguire Diventa subito La paginetta fanbase Ah creatura divina Sei bellissima Cioè anche la donna stessa Che per fare un complimento All'artista Le dice sei bellissima Indipendentemente Da I canoni estetici Esatto Che cazzo mi rappresenta Fantastica creatura Ma vaffanculo Ma scrivimi qualcosa Sulla musica Scrivimi la mia musica Quanto ti ha dato Cosa ti ha No Cioè questa è una cosa Che fa male Perché? Perché lì poi È denigratoria L'italismo si è insinuato Anche nel pensiero femminile Purtroppo No ma beh Ma lì è cultura E culturalmente parlando Siamo un paese retrogrado Per quanto riguarda L'emancipazione della donna Che che se ne dica Nella vita proprio L'Italia è proprio indietro Almeno almeno 50 anni Confronto tutto il resto Del mondo civilizzato Eh Quindi anche lì Purtroppo è un tessuto sociale Dovremmo cambiare noi Noi per le nostre generazioni future Quindi noi padri Per le generazioni che verranno Quindi anche voi ragazzi Che seguite in chat Che siete padri Lo so Bisognerebbe un attimino Fermarsi di più Sulla cultura Per quanto riguarda Artistica E non soltanto femminile Per far ricordare Che non c'è soltanto Il corpo Da osservare Ma c'è anche qualcosa dietro Perché se no Veramente ci blocchiamo E allora a quel punto La ragazza che esteticamente Non rispetta i canoni Della società Di quel momento Avrà paura A dire che suona Perché ha paura Di essere giudicata Soltanto per quello E non per aver sentito Però Vai a rompere il cazzo Come si chiama Quella che suonava Che adesso fa Il programma sulla I1 Quello delle band Bambole di pezza Stanno tornando Le bambole di pezza Stai zitto Madonna mia Come si chiama Quella ragazza Che tirava fuori Le tette In Germania Nannini La Nannini Sì Divina la Nannini Che probabilmente A livello canon estetico Era diverso Da quello che erano Gli anni 80 e 90 Ma Fortissima Mostruosa E comunque anche A livello musicale Intendo È sensuale Lei lo faceva Per Lei nell'85 Far vedere il seno No Per una rocker italiana Perché faceva Del rock duro La Nannini Adesso è pop Va bene Deve campare Si è anche rotta il cazzo Ma ai tempi Non dovevi neanche Dirle escile Te le faceva vedere lei Per dire Dimmi qualcosa Coglione Era diversa la cosa Era diversa la cosa E poi si trattava Di un ambiente Totalmente diverso Da quello del rap Parliamo di un ambiente Rock L'ambiente rap L'ambiente pop Ok che viene dal fatto Dei getti Bla 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 I cazzi in America Ma c'era un dispetto Per le donne Anche Ma riguardatevi Tutta la storia Di Dottor Dre Riguardatevi Tutta la storia Di Lauri Neal Riguardate quanto Hanno fatto quei tipi Di gruppi Che erano sì Violenti E riottosi C'era anche Tutta quella roba Del Black Panther Che comunque Era sempre Nel loro tessuto sociale Una cosa importante Affrontare quei discorsi Ma quanto rispetto C'era per Laurini Ma avete mai sentito Qualcuno dire qualcosa Di male Qui Latifa Qui Latifa O anche solo Quell'altra Miss Elliot Porca puttana Ma dimmi qualcosa Miss Elliot Che non fa live Proprio per il body shaming Che aveva Che non faceva i live Ti lo ricordi Che ha fatto un bel po' di anni A non fare live Perché Per il body shaming Cioè ma vaffanculo Ma vaffanculo Io l'altra sera Che abbiamo fatto il concerto Del primo maggio Nel countdown Ho fatto sentire Una ragazza fortissima Giamaicana Che si chiama Empess sativa E questa cambia 65 flow In una canzone Capito E la gente diceva Ma chi è questa Chi è questa Eh raga Le donne che forti ci sono Ci sono nel rock Ci sono nel metal E ci sono anche nel rap Ma sai perché Non fanno strada Perché voi vi cagate Solo i maschi Non so perché Pensate che Una Una donna Non possa essere Per voi un esempio Di forza O anche solo di Un esempio raga Cioè io ho un sacco Di riferimenti femminili Cioè Red Sonja Lady Isabel Cioè ho un sacco C'è un Lee Voglio dire Ci sono un sacco Di riferimenti femminili Nella mia cultura pop Immaginaria Ma anche nella Nella storia Veramente Nella storia Di persone reali Quindi non so perché Siete così Con l'occasione di questa live Per chiedervi in pre Proprio su questo argomento Mi accorgo che ogni tanto Si vuole prendere Spunto dal modello americano Dove ci sono queste rapper Complicemente sessualizzate Cardi B No aspetta 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 Parla di Cardi B Dove non fanno altre Che fare video Mezze nude Che twerkano Mi fa cagare Ogni tanto penso Che se faccia perdona Vedi da fuori Dicendo di essere Tutti i giorni Con tutto il pubblico Sono tessuti Sociali Differenti L'America e l'Italia Sono due cose Totalmente differenti Esatto È diverso È un altro tipo di cultura Cioè Lì utilizzano Determinato tipo di modello Per fare una determinata cosa Ma Non dimenticano Il messaggio Che c'è sempre Sempre Anche perché Una cosa è lo spettacolo Quando sei sul palco Vale tutto Bravo Quando sei sul palco C'è una parte Di recitazione C'è una parte Di teatralità C'è una parte Di fisico Che deve esserci Guarda i maneskin Che sul palco Fanno tutti i ribellini E poi votano il PDL E sembrano usciti Dal salotto buono Borghese Dei Nobiliare Del No Dei monarchici Sembrano usciti Cioè Hai capito Come votano il PDL Eh Fada Non far finta di non sapere Guarda che la news Che di ieri Era semplicemente Che appoggiavano Un disegno di legge Il PDL Ah ok Però hai capito I maneskin Quando li vedi in giro Sembrano usciti Dal Dai salotti monarchici Tutti precisini Hai capito Tutti Super allineati Con il politicamente corretto Dell'opinione pubblica Poi sul palco Fanno tutt'altro I maneskin sono la feccia Ok Va bene Però ho fatto l'esempio Del palco La Cuna Coil L'abbiamo Cristina A 50 anni Che va Vestita Come una cazzo Di 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 Tutta face painting E poi La Fia Si mette vestita come me Quindi Uguale Proprio le stesse cose Sì sì esattamente Proprio il pantaloncino E qua Esatto Proprio noi Però E io volevo dire una cosa Questa roba dell'esempio femminile Che Deve essere anche per un maschio L'esempio femminile Adesso non voglio fare quello che Però io Ho tatuato a vita Sul braccio Questa Lei era una principessa Giapponese Che è morta combattendo Per difendere il suo castello Assediato Ok ed è morta vergine Sapendo che moriva Piuttosto che lasciarsi prendere Dai nemici Quindi L'esempio della Donna forte Da seguire Io me lo sono anche tatuato Ma non è Quacquara qua Tanto per fare La bella cosa Ok Le donne guerrieri In Giappone Ce n'erano Era la normalità Però anche lì Se ne parla pochissimo Sembra che ce n'è stata una La leggenda No no Le donne samurai Era la regola Era la regola Le donne samurai Quindi voglio dire Anche voi donne Cercate di supportarvi A vicenda di trovare E di spingere Degli esempi femminili Forti E non Che cercano di cavalcare Le onde Che possono portarle A fare successo Siate voi stesse E abbiate fiducia In voi Nella vostra forza Cazzo Siete femmine Cazzo Partolite Sembra che tutto Quello che esca In questo momento Di donne Di prodotti artistici Di donne Di ragazze Sia soltanto Sono donne Tre anni fa Quando abbiamo Iniziato Quando abbiamo Tirato fuori Madame E abbiamo fatto Tutto quel casino Sulle donne Ti ricordi Quante donne Si facevano sentire Ti ricordi Quante donne Uscivano Sui vari giornali Italiani A parlare del rap A dire Ah no Hanno torto A dire questa cosa Però intanto Se ne parlava Dopo due giorni Che noi abbiamo detto E' una roba Che abbiamo fatto apposta Per tirare fuori Questa ragazza Sono scomparsi tutti Perché? Perché faceva più scena A sposare la causa Di qualcosa Che non si conosce Piuttosto che spingere Realmente quella causa Cioè Fa più scena dire Io sono con le donne Perché gli arcade boys Hanno detto che le donne Non devono rappare Piuttosto che Supportare una donna Che rappa Da anni E continuare a supportarla Facendo di ascoltare La propria musica Quindi come al solito Siamo lì E' il dissing E' l'attrito E' la rabbia E' la voglia Di avere un nemico comune Facile da attaccare Perché è il più bonista Del cazzo Alla rogna Capisci? Certo Certo Adesso poi sembra Che noi siamo qua A fare i bonisti Per chissà quale cosa Ragazzi Ci sono donne Che non mi piacciono Come cantano Non le supporto Sicuramente Non sto a dire Ah dobbiamo Supportare le donne In quanto donne No Bisogna rispettare le donne In quanto donne Va bene Però se una donna Mi sta sul cazzo Io la tratto come un uomo La insulto come un uomo Il discorso è Nella musica italiana Rap underground Soprattutto nel rap E nell'hip hop C'è una puzza di cazzo Che Ah non lo so Magari a voi piace Ma anche dire Io sono un uomo E ascolto un uomo Perché mi identifico In un uomo Ma mai provato a sentire Cosa da dire una donna Che ragiona Con tutta la parte Del cervello Che noi uomini Non usiamo Magari ti ampia Un po' di vedute Magari poi Non sei d'accordo Però almeno Hai visto qualcosa Che non conoscevi E puoi Capire qualcosa Poi puoi rimanere Non d'accordo Però almeno Hai ampliato Un attimo I tuoi orizzonti Ma capisci anche Un universo Totalmente diverso Dal tuo Capisci anche Delle sensazioni Capisci anche Come viene vissuta Una situazione Con fronte a quella Che è la tua normalità E questa cosa Ti insegna a crescere Perché ti insegna A empatizzare Cioè empatizzi Veramente con chi Stai ascoltando Io non posso ascoltare La gente Che è totalmente uguale Ma anche Nel rap maschile O nella musica Suonata dagli uomini In altri generi Non posso empatizzare Con quelli Che fanno roba per me Perché cazzo Me lo stai raccontando Sono già d'accordo Va bene Bella Mi piace Mi piace Quando ho voglia di sentirmi Dare ragione Parlo con te Ascolto con te Esatto Esatto E come quando abbiamo sentito La Sada all'inizio Che abbiamo detto Oh che è sta roba E poi ho detto Però dà fastidio Perché mi dà fastidio Perché allora Aspetta un attimo Esatto Ma è giusto Ma è giusto È così Poi Supportare le donne In quanto donne Diventa proprio svilente Sembra di fare le categorie protette Che ti metto lì per forza Perché poverina sei donna No poverina è un cazzo È come Adesso faccio un esempio brutto 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 È come quando magari Nei vari talent Andava la ragazza E uso un termine medico La ragazza obesa Che voleva fare la pole dance E tutti applaudivano solo per Ah il coraggio Le cose Ma no scusami È un'esibizione sportiva Il tuo fisico non ti consente Di fare un'esibizione sportiva Vuoi l'applauso solo per il coraggio No mi dispiace Io sto buttando altro Quella roba lì Secondo me Secondo me Poi magari mi sbaglio È una cosa che io Ma se è sovrappeso E poi balla comunque bene Che cazzo me ne frega a me Deve ballare bene Però poi dopo Se balla bene Che cazzo me ne frega a me Non deve ballare bene Io voglio vedere Se tu ti presenti Alla su un palco È perché tu ti stai mettendo in mostra Fammi vedere Se sei brava Sei brava Che tu sia sovrappeso Che sia troppo magra Che abbia i buchi sulle braccia Sono cazzi tuoi Sono tue scelte di vita Nessuno deve dire E nello sport Questa roba Supportarti per questo E nello sport Questa roba è insindacabile Perché se uno Dei risultati sportivi Li ha indipendentemente dal Dal volto Indipendentemente dal fisico Nella musica no Nello spettacolo Le donne sono sempre penalizzate Se sei brutta Non ti cagano Perdonatemi il termine Se non rispondi Nei canoni estetici Odierni Non ti cagano Se invece sei bella Ti cagano Perché sei bella E passa sempre tutto In secondo piano E oppure devi fare Mischetta con la mascherina E però comunque Fare un prodotto Totalmente Sessualizzato Sessualizzante Provocatorio E plasticoso Che è ancora più Controproducente Secondo me Però sono cazzi suoi Si fa i soldi Bella per Mischetta Perché schifo l'Italia Ma non è il problema Dell'Italia No no È un modus operandi Di tutto il mondo Il problema è La popolazione Come ricepisce Io la sento più La sento di più in Italia Perché È già un paese latino Già siamo in Italia Dove fino agli anni 50 In Sicilia Le donne non potevano andare In giro da solo In Sicilia Non nei paesi Dove c'è la legge islamica Che ti lapidano In Sicilia In Calabria Non potevi andare in giro da sola In Italia Questa roba È pesante Il problema Della considerazione Della donna È pesante In Italia Senza dover dire Ah Il Politicamente corretto A tutti i costi Che lo sapete bene Come la pensiamo Se io devo dire Porca troia Dico porca troia Se devo prendermela Con una donna Me la prendo Perché mi ha fatto qualcosa Perché non sono d'accordo Ok Però C'è da fare sempre Un distinguo Nelle cose Non mi ricordo più Che stavo dicendo Volevo dire una roba su Sempre su Anna Però non ricordo più adesso Per niente Detto ciò Raga Anna Al di là del meme Ma il meme su Anna Che poteva fare ridere Era Mink Hai fatto Bendo Bendo Remix Bendo Featuring Bendo Deluxe Ok Quello poteva essere un meme Perché? Perché era riguardo alla sua Arte Certo Quello poteva anche passare il meme Un meme di 2-3 anni fa Basta Non fa neanche più ridere Però c'era Abbiamo fatto noi Ma Aveva senso Ma Sul corpo Non lo so E il Cile Proprio veramente Poi Penso sempre che siano I problemi principali Di come viene venduto un prodotto E a chi viene venduto un prodotto Perché queste cose non succedono in altri ambienti Nell'ambiente del stand up comedy Nessuno si sogna Di rompere i coglioni Penso Spero No no Alle donne In questa maniera Solo perché In quanto donne Nell'ambiente Nell'ambiente Del televisivo italiano Questa roba è stata un grave cancro Dagli anni 70 80 90 Adesso sta migliorando la situazione Perché comunque Ne bene o nel male C'è un'evoluzione Magari anche questo buonismo Ha cambiato un pochettino le cose Però è radicato all'interno Della cultura italiana Questo denigrale Ricordi cosa ci ha detto Cosa ci ha detto Micol I rivali giornaletti Quelli che compri un euro di gossip Che titoli facevano Come si è ridotta Michelle Roma Ronchi Micol Ronchi Come si è ridotta 10 chili Oh Tu con un euro Per vendere un euro di giornale Parli delle persone così Ma anche se fosse un uomo Anche quando è venuto Quando è venuto Montanini Che la gente Parlava solo di quanto fosse ingrassato Ma porca puttana Si vede Ma parla di quello che dici Ma critica Critica quello che dici Si vede che è grasso Non serve che Dagelio Ciao bello mio Ciao Dagelio Preparati Dagelio Piano piano No non parliamo di aborto in chat Perché non è questo Il La situazione per parlare di aborto Si aborto no Poi non c'è neanche una donna qua Per parlare di aborto E anche ogni donna Ha un pensiero diverso su quello Quindi Non mi sento di mettere becco Ok D'accordo Totalmente d'accordo Bisogna parlare con qualcuno Che le passa Soprattutto bisogna Bisogna prendere la categoria Di una che non può avere figli La categoria di una che l'ha passata E una che è stata stuprata E poi ha dovuto decidere Che cosa fare del proprio figlio Bisogna prendere troppe categorie Troppi pensieri Non si può fare di tutti Un purpurri di una cosa così importante No 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 E poi mi potete dire Bonista quanto cazzo volete Si si Perché poi c'è come dici tu Devi prendere una donna Che non può avere figli Una che li vorrebbe Una che è contraria all'aborto Perché magari è cattolica Una che magari è incinta Perché è stata stuprata E non lo vuole tenere Una che magari Lo vuole tenere comunque Perché dice Non è colpa sua Se è vittima Se è nato da uno Quanti casi ci sono Una che magari È incinta Lo voleva L'ha cercato con suo marito E trova il bambino Che magari Ha delle gravi patologie E nascerebbe Con delle gravi patologie Che non lo portano A vivere una vita E magari diventa un vegetale Per dire Quanti casi ci sono Dell'aborto Chi cazzo sono io Per dire giusto Cioè ogni persona Lì singolarmente Deve prendere le sue scelte Deve essere libera Di poterle prendere Secondo me Assolutamente sì Secondo me Anche perché Il proprio corpo Il proprio corpo È la cosa più in po' Cioè il tuo corpo È un tempio Il tuo corpo Scegli come viverlo Ovviamente Senza fare male A nessuno Perché poi Sì Il feto Non puoi uccidere Una persona Ma scusami Votate per la legge Sulla legittima difesa Che posso ucciderti Se mi entri in casa E non posso ucciderti Se ti ho dentro di me Fammi capire adesso Perdonatemi Io non mi sento In diritto Di dimettere becco Su questa cosa È molto minimizzato Questa cosa Ovviamente è una battuta Quella di Barlo Ovviamente È una battuta Quella di Barlo Ragazzi Sai perché è una battuta Perché è quello Che ti entra in casa Entra per farti del male Esatto Che hai dentro di te È ovvio che Grazie che spieghi Le mie battute Perché altrimenti Guardano tutta la lettera No perché le straplano E tu lo sai bene E tu lo sai bene Quindi Sì Beh lì è più una cosa No di Te l'hanno regalata Per dirti Ti do questo nuovo Di Rafa Esatto Tanto poi Gli assorbenti Te li devi comunque Comprare tu Capito Cioè Pannolini per i tuoi figli Gli assorbenti Non è che te li passa lo Stato No però ti dice Dai però se vuoi Ti do il doppio cognome Grazie Vabbè Mi è cambiata la vita L'orgoglio E con l'orgoglio Cambiaci i pannolini Ci vediamo più tardi Ciao Aglio Ciao Ciao